Saranno oltre 70.000 agli agenti militari che veglieranno sulla corretta applicazione delle norme di questo Natale blindato per il Covid. In queste ore in una circolare del Viminale inviate ai prefetti le indicazioni per la corretta interpretazione delle norme. Ci saranno controlli lungo le grandi arterie in città per prevenire assembramenti, per far rispettare il distanziamento e le restrizioni sulla mobilità. Sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi viola le regole. Calandario alla mano, vediamo cosa si può fare o meno giorno per giorno. Da ieri fino alla Befana è in vigore il divieto di spostamento tra regioni, pietato visitare amici e parenti, se questo significa uscire dalla regione in cui abbiamo la residenza. Nei giorni rossi invece, ovvero vigilia Natale, Santo Stefano, oltre al 31 dicembre, capodanno, 2, 3, 5 gennaio ed epifenia, una sola volta al giorno si potrà andare a trovare, chiamiamo, ma attenzione, solo se non vive in una regione diversa. Lo sport non sarà pietato nemmeno nei 10 giorni rossi, ma bisognerà fare movimento all'aperto e da soli. Ok gli spostamenti nelle seconde case, se si trovano in regione. Bisognerà avere ovviamente sempre in tasca l'autocertificazione, anche se non si dovrà specificare da chi stiamo andando. Nei giorni arancioni poi ci si potrà spostare liberamente, rispettando sempre il coprifuoco. Ancora, comuni fino a 5.000 abitanti, ok gli spostamenti per un raggio di 30 km, anche fuori regione, purché non ci si recchi nei capoluoghi di provincia. Veniamo ai numeri di chi si sposta a massimo 2 persone, oltre ai minori di 14 anni, ai disabili o ai non autosufficienti.